Andrea Farris alla Camera e Luigi Todini al Senato sono i due candidati nei collegi sassaresi di Casa Pound alle elezioni politiche del 4 marzo, presentati lunedì sera ad iscritti e simpatizzanti. Prima l'Italia, casa, lavoro, stato sociale, prima gli italiani, lo slogan che il movimento di destra propone agli elettori. No al Movimento 5 Stelle, no al PD e no al centro-destra ancora a trazione berlusconiana, ma anche e soprattutto no ai vincoli dell'Unione Europea e no all'euro. E poi la Sardegna, il rilancio dell'agricoltura isolana, il potenziamento del settore turistico e la lotta contro lo spopolamento e la disoccupazione. Tra gli altri temi, il no netto allo gli usso soli e lo stop all'immigrazione. Il programma di Casa Pound è chiaro, occorre creare le condizioni in Africa per impedire che arrivino altri clandestini e rimpatriare tutti quelli che non hanno mezzi di sostentamento propri. A Sassari, in particolare, ha spiegato Luigi Todini, stanno per arrivare altri 250 talaprofughi e finti profughi, che si aggiungeranno agli 800 già presenti, una quota superiore al massimo di 3 ogni 1000 abitanti. Ma ciò avverrà solo dopo le elezioni, un inganno per i cittadini. Stasera la sala gremita è sintomo di un partito in forte crescita che ha ritagliato un suo spazio all'interno della vita politica non solo della città, ma anche del paese, hanno concluso Andrea Farris e Luigi Todini.